Tutti sbanno Guarda quest'altro Che triste Che triste Sei triste Sei triste proprio Massimo 2-3 anni Ok E' il tempo Che mi faccio Una bella Villa Maximo 1-2 anni Ah no Da che stato Per il meme Sei una palla Hai ragione Cic Neanche un anno Ma infatti Infatti Sono ancora vivo Tanto da 2 anni mori Mamma mia Prediction di Ciccio Gamer Fatto un guaio Cioè non si rendono conto Quando parlano Con la community In un video In una diretta In qualcosa C'è capito che Quanto odio Mi ha portato a me Quanto odio Mi ha portato a me Quanto odio Ragazzi Quanto odio Scandaloso 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 Quanto odio Quanto odio ha portato a me Quella persona Quanto odio Quanto odio Dopo un mese Dopo un mese e mese Ammazzati Buone Allora Tenetevi a dentro Ciccio Gamer Vedete ancora Ragazzi Ancora Vai giù Vi rendete conto Una persona Non può dire in pubblico Queste cose Poteva benissimamente Mandarmi un cazzo Di messaggio In privato Per evitare tutto questo Mannaggia la madonna Porca puttana Porca puttana A panzone Bannatemi Muori Mamma mia Mamma mia Sta gente Mamma mia Ma io faccio proprio così Seleziona Tutti quanti Tutti Rifiuto Ma fa mucca Ma girutto cazzo Ma girutto cazzo Sì No questi qua Sono quelli vecchi ragazzi Vedete Sono tutti vecchi questi Questa era durante la maratona Cancelliamo tutto A posto Bannatemi 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 Grazie a tutti.